Ecco qua, è stata fatta la lettura della parola di Dio poco fa e adesso siamo in questo locale, siamo qui tranquilli e sereni, grazie a Dio varie persone che vanno e che vengono e noi ringraziamo le persone che hanno ascoltato la parola, persone che hanno voluto sentire ciò che Dio ci vuole dire da Isaia, sono state fatte anche delle domande, ringraziamo il Signore per le domande che sono state fatte e ringraziamo il Signore per le varie persone che vanno e che vengono, persone che si sono date da fare anche nel servire e ringraziamo tutte quante le persone una per una, persone che sono felici di partecipare a questa piccola mensa, a questo piccolo pranzetto, non è un pranzetto, è a pracena, una specie di tra pranzo e cena, un piccolo rinfresco, guardate l'orario, non crederete ai vostri occhi, sono le 6 e 10 di sera, quindi è una specie di rinfresco tra il pranzo e la cena, pracena e noi ringraziamo Signore per questo momento qui, sono state fatte varie domande e adesso tra un po' ci saranno anche le telefonate in viva voce se Dio vuole, guardate che cose buone che ci regalano i negozianti, continuamente ci regalano le cose buone e in più vengono regalate anche al popolo, persone quando vanno via portano via tutto quello che gli pare e grazie a Dio.